Le cose, le simulazioni Io sono già pronto Tu basta che ciò che ti decidi Sono deciso Eh già, il mondo è fatto così Giallo, arancione, giallo, arancione 3, 2, 1 Ma perché? Ho avventato in un voto Cosa ho fatto? Così a cazzo Madonna com'è fluido Il drone nemico ha trovato il contenitore di biorischio 1 ripassato EDD attivo, stati alla larga Porta barricata EDD montato, che vengano pure Madonna sti cazzo di drone Madonna Madonna 10 secondi 30 5 secondi Il nemico ha individuato il contenitore di biorischio Come non c'è nemmeno una figlia di puttana Per caso ha troppo tempo questo è pagato Cazzo un filo spinato Dispositivo innescato Ora ti faccio entrare Teneti d'occhio la porta Non sarebbe affatto male Io intendo Ecco tu stai guardare là EDD montato Ti metto una Una trepola anche qua Basta che nessuno stia vicino Abbiamo le bombe Da proteggere Una bomba Sensori cardiaco attivato Bello Per fortuna che mi hanno spottato maniche Non ti muovere presto sarà finita BADOMMA Così ottieni quella dietro di zè d'occhio Quella è l'altra parte che sei coperto Anche se ti prendono le spalle Thermite Ma perché Ma mi vogliono le spalle Si lo vedo Porca puttana Ultimo attaccante Si è rimasto in vita Ammazzate tutti noi Allora l'attacco eliminata Missione completata Eh si l'hai fatti tu Tutti e due E dopo mi volevo ne spellere Eh non sei l'unico che volevo ne spellere Tu almeno hai fatto due assist E zero uccisioni Li ripago Mi hanno rubato fuse IQ non è per niente brutta Madonna mia Prima mia C'avevo un drone che mi rompeva i coglioni Dio mio Sempre là a spottarmi E dato che c'avevo il rinculo del fucile Non riusciva a prenderlo Porca puttana Non ha abbandonato Si è offeso perché Siamo persone brave Trovate il contenitore di biorischio Siamo all'unico rischio Io non c'ho tanto da te Sento qualcosa io Ehm C'è che sono lì sopra Ottimo lavoro Contenitore di bioristro Reclita Sì 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 Ne manca una l'appello Ok c'è l'autocamco Distrutto Ottimo 5 secondi all'inserimento 5 secondi all'inserimento Contenitore di bioristro individuato Raggiungetelo Madonna è crashato Capcam C'è C'è No Fuse Chi ha ucciso Ashe? Uccidi Ashe Guarda che stupida C'è un cedente C'è capire E adesso sono io Quello più alto Ma dai Liberate l'area dell'esplosione Non riesco a capire il motivo Votalo per l'espulsione Porca puttana Lo stai votando? Senti non ora Porca puttana Pronta di tonare Pronta di tonare Pronti all'inserimento Immagino che qua c'è anche la bomba Sulla destra Sulla destra Sulla destra Sulla destra Sulla destra Sulla destra Ah me l'ero dimenticato Attività nemica Neutralizzate la minaccia Madonna Sì ho fatto una cazzata Lo ammetto Non ci posso credere Non ci posso credere C'è ho fatto un'uccisione Due assist E sono ancora primo Non ci posso credere Adesso votalo per l'espulsione No senti Se adesso Non fa cazzate Lo lasciamo in pace Ma dopo sì Se fa altre cazzate Sì Dobbiamo proteggere Il contenitore Di più rischio Difendete la stanza Ma sempre dove eravamo Sì ma Mi ha ammazzato Un'altra volta Ammazzalo Dio mio Fammi un piacere Fammi sto piacere Ammazzalo Ehi Yari Yari No questo No questo No lui No lui Senti No no RABRO Ancora dieci secondi Corre con treppola Stai Ancora cinque secondi Ah ma c'era andato Il drone nemico ha individuato il contenitore Eh Dio mio Twitch no eh Dove sei stronti Merch Ricarico Dio mio Dove sei stronti Quattro Ma si Mi vado a mettere su un posto sicuro Buon divertimento Resta solo un operatore alleato Da centro Un'altra Non li trovo Continua a guardare la Spedite al nemico di prendere il contenitore di più rischio Sventate ulteriori accessi al contenitore Non ho le armi che vorrei Dio mio Inclinalo Inclinalo Ti riusci No ti riusci No 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 Sono là Sinistra Difensori eliminati Missione fallita Eh Dio Cristo Ma l'hai vista come si muoveva Ma Dio Cristo Dio mio Ci tocca fare la rimonta È la cosa peggiore che ti possa capitare Siamo giù Sì sì È mute C'è mute Ancora dieci secondi Cinque secondi all'inserimento Posizione contenitore di più rischio ignota Ingaggia autorizzato Attivo il drone Guarda che io non c'ho mica il Facciamo un lavoretto da termite No volevo Aspetta aspetta No no Fermo fermo Voglio fare una bastardata Prima Dai spiegati però Ma sì Cazzo me l'hanno distrutto Carica a grappolo attivato Facciamo un bel muro In piatto il gesso Ci siamo Ander con il sordente Carica a grappolo piazzata Carica Contenitore di biorischio trovato Bella Sì Attività Dimenticatevi del contenitore Attività nemica Tornate a occuparvi del contenitore Dopo aver neutralizzato la minaccia Rimane un nemico Difensori neutralizzati Vittoria per gli attaccanti Poi che l'ultimo Bro Sono simile Per forza hai fatto Tre uccisioni Tre assist Poi prendi un sacco di Senti I punti con Cap Che è una roba del genere Vabbè adesso Non credo che ci sia di nuovo St'altro che ti ammazza subito Quindi Sì No Che bello Il drone nemico Ha trovato il contenitore Di biorischio Rimangono 10 secondi Dispositivo innescato Tenete d'occhio la porta Restano 5 secondi Il nemico ha individuato il contenitore di biorischio Adesso mi spinto Oh la Crediti attivo Stati alla larga Vai Certo Crediti montato Che vengano pure Vabbè Mi piace Aiuto Non posso guardare A miele spalle Aiuto Ci abbiamo contro Fuse Aiuto Ammazzate Fuse Il muro è ricordato Ho problema Nella testa Funzioniamo Tutto No 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 Ti ho tolto un sacco di vita Da contenitore di biorischio in pausa Mettate al nemico Più O ti arrivano dall'altra parte No Bellissime Bellissime No Sono ancora là Lo sto salvando Vai Sono ancora là Tutti e due Non so se sono pazzo O sono un genio Faccio i seri Sono uno di due Ok Ok Stanno entrando Non sono entrati L'ultimo nemico Non so se sono pazzo Andiamo a comandare Chi ci abatte Nell'ultimo nemico Andiamo a comandare Chi ci abatto a fine E' un genio Andiamo a comandare Tra quelli che si fanno saltare Quelli che L'hai registrata Spero Sì Dovrei averla registrata Però erano in quattro Quindi era la più facile Quando è che editi Bella domanda Sto ancora editando quelli Su Yu-Gi-Oh Che dovrei averli Fatti Tipo Ancora Due O anche cinque mesi fa Ma si comincia ad editare Quelli di Rainbow Sì Vabbè Quando Riuscirò a essere giusto Questa è l'ultima Vabbè Oddio